La proposta di legge è stata approvata con voto favorevole all'unanimità. Sanità, utilizzare la graduatoria per assumere al più presto gli operatori sociosanitari, approvato un testo unico che chiede di prorogare in Toscana i termini della scadenza della graduatoria Estar. Festa dell'Europa, conferenza stampa nel Media Center Sassoli per presentare le iniziative del Consiglio regionale. Il Consiglio regionale ha detto sì all'unanimità alla proposta di legge che istituisce il premio di laurea David Sassoli. La proposta di legge vede come firmatari il presidente Francesco Gazzetti e altri membri della Commissione Consiliare Politiche Europee e Relazioni Internazionali. Il premio miglior tesi di laurea David Sassoli è previsto per le tesi di laurea discusse negli Atenei Toscani sul tema l'Europa, le regioni e i cittadini. Un modo di ricordare la figura di Sassoli e il suo grande contributo all'istituzione europea e di promuovere il sapere su temi europei. Sono particolarmente orgoglioso della legge che abbiamo appena approvato, una legge che sostiene i premi di laurea, le migliori tesi di laurea sull'Europa. Un modo per ricordare un grande uomo, un grande uomo delle istituzioni, David Sassoli, negli anni di impegno come presidente del Parlamento Europeo ha cambiato il modo di vedere l'Europa, un'Europa dei popoli, un'Europa che unisce, un'Europa della solidarietà e allora premiare i giovani che cellono in queste materie è davvero un modo per portare avanti l'impegno e il pensiero di David Sassoli. Da oggi in poi questo riconoscimento, questa iniziativa che si rivolge ai giovani laureati diventa patrimonio di tutto il Consiglio regionale e quindi è un appuntamento che diventa fisso da qui ai tempi che verranno e questo è un tema che era emerso già in occasione della prima edizione dove c'eravamo tutti detti che doveva essere qualcosa che si stabilizzava e che diventava strutturale e che con un lavoro che è stato fatto tutti insieme in Commissione Europa perché è una proposta che porta alla firma di tutti i commissari e anche se ha giunto il presidente del gruppo Italia Viva Stefano Scaramelli permette proprio di raggiungere questo obiettivo. In avvicinamento alle giornate dell'Europa ovviamente una istituzionalizzazione di una borsa di studio importante per dei premi di laurea, di una legge che diventa istituzionale del Consiglio regionale, sarà duratura nel tempo, l'idea di premiare dei ragazzi e con la ricerca ovviamente parlando, vi ricordo di Sassoli parleranno dell'Europa, del nostro ruolo. La Toscana è sempre più una regione d'Europa e in questa ambizione ovviamente il Consiglio regionale vuole premiare i migliori studenti, i migliori laureati che nella nostra regione dedicheranno i propri studi, i propri testi di laurea a quello che è diciamo uno dei padri della nostra Europa. Questo è un attestato di stima, io ho firmato molto convintamente questo testo di legge che rimane a questo punto una legge del Consiglio regionale e una legge che arriva diciamo a testimonianza di quanto la Toscana sia sempre di più una regione d'Europa. Una figura che ha rappresentato la nostra nazione, la nostra Toscana soprattutto in Italia e in Europa è stata una figura istituzionale grandissimo giornalista ma anche una figura istituzionale e credo che questo debba essere da sprone per tutti i nostri giovani, per tutti i nostri ragazzi, di un esempio, di una persona equilibrata anche se politicamente eravamo e siamo su delle sponde diverse ma credo che assolutamente bisogna riconoscere il valore, l'esempio, la professionalità, la serietà di un personaggio come Sassoli per cui credo che questo sia veramente un risultato importante per la nostra collettività ma soprattutto una scelta importante per quanto riguarda la regione Toscana. Approvata all'unanimità dall'Aula una mozione affinché gli operatori sociosanitari presenti nella gradatoria Ester siano assunti al più presto. La mozione impegna la giunta regionale ad attivarsi nei confronti del governo perché vengono assunti specifici provvedimenti per consentire la proroga della scadenza, aprile 2024, della graduatoria relativa al concorso per l'assunzione di OSS e di limitare al massimo il ricorso al lavoro interinale. Siamo riusciti a convergere su un testo unitario che prevede due punti cardine. Il primo è sicuramente quello di dare un mandato forte all'assessore e alla giunta affinché si impegni nei confronti del governo per allungare il periodo di validità delle graduatorie che è stato ridotto a due anni che invece deve essere ripristinato nella sua valenza originaria di almeno tre anni perché questo consente ovviamente una programmazione più lunga, più diluita e soprattutto anche di ammortizzare e di poter utilizzare strumenti come le graduatorie appunto per le quali insomma vengono impiegate anche molte risorse per l'espletamento dei concorsi. Il secondo principio è quello di procedere con l'utilizzo della graduatoria per tutti i fabbisogni assunzionali quindi che siano a tempo determinato o indeterminato attingendo alla validità, a quella validamente in essere, evitando il ricorso a forme di lavoro interinale cercando appunto di assumere più personale possibile. Io per primo ho avuto la forza di chiedere all'aula in questa seduta di mettere in votazione questo atto, tanto se ne parlava associazioni, sindacati sollevavano la questione, operatori stessi, c'è un'attesa incredibile di ossa e di assunzione, quasi duemila persone in graduatoria da più di un anno non vengono assunte, fra un anno scadrebbe la graduatoria, quindi io ho chiesto come capogruppo di Italia Viva di poter inserire in votazione nella seduta odierna questo atto. Poi c'è stata la condivisione di tutti i gruppi consigliari, questo è positivo quando si trova un punto di convergenza su un testo così importante. Ringrazio l'associazione Noi Siena che è stata per prima quella che ha sollevato questa questione facendo proprio il grido di richiesta di tante donne e uomini in graduatoria ossa che vogliono lavorare per un sistema pubblico, vogliono un lavoro remunerato in maniera adeguata per la loro professionalità, hanno studiato, sono diventate idonee e idonee in graduatoria rispetto a un concorso che hanno fatto e quindi hanno una legittima aspettativa che noi con l'atto di oggi chiediamo appunto possa essere rappresentata dalle aziende sanitarie che saranno chiamate a questo punto ad assumerle nello stesso tempo, una graduatoria che può allungarsi nei tempi per consentire loro di essere assunte in maniera graduale ma comunque partendo già dalle prossime settimane. Noi in particolare avevamo firmato quella di Italia Viva proprio anche per questo dimostra la trasversalità del problema però poi abbiamo voluto fare una nostra mozione perché abbiamo individuato che non c'è soltanto gli os che hanno in scadenza questa gradatoria ma ci sono altre 25 forme di operatori sanitari che vanno dai tecnici di laboratorio a altri tipi di infermieri e quindi credo che focalizzare l'attenzione su questa cosa sia importante. Naturalmente non si può pensare di andare avanti a forza di proroghe di lavoro interinale o di lavoro somministrato quindi non in maniera attingendo dalle gradatorie perché noi potremmo prorogare la sine die ma se non si prende da queste gradatorie inevitabilmente rimane lettera morta quindi è anche un appello alle ASL perché attingano da queste gradatorie. C'è una gradatoria della regione toscana all'interno della quale ci sono duemila persone nonostante questa gradatoria ancora in essere la regione toscana prende dalle agenzie interinali anche per fare lavori continuativi persone noi chiediamo e su questo il consiglio si è espresso unanimemente quindi siamo molto soddisfatti di questo che si attinga dalle gradatorie aperte alla regione toscana che si eviti il più possibile invece di ricorrere al lavoro interinale perlomeno soltanto nei limiti di legge quindi non si può coprire un posto in maniera continuativa saltellando da un lavoro interinale a quell'altro noi soprattutto abbiamo chiesto con forza che le duemila e duemila OS in gradatoria vengano tutti assunti da parte della regione toscana perché il servizio sanitario regionale ha bisogno in questo momento di duemila OS per la professionalità raggiunta da questa figura professionale si creerebbe un sistema sanitario più moderno più efficace più efficiente quindi c'è bisogno di assumere tutti i duemila OS entro aprile 2024 per metterli nei pronto soccorso per metterli nei corsi degli ospedali per metterli sul territorio per metterli nel domicilio delle persone ammalate alla fine è stato raggiunto un accordo fra le varie forze politiche che avevano presentate tutte più o meno una stessa mozione è stato chiesto di fare un lavoro unico un segnale di unità e infatti è stato votato all'unanimità è stata una soluzione di buon senso che chiede da una parte al governo il prolungamento della validità della graduatoria e dall'altra un impegno della regione toscana fa scorrere quella graduatoria al posto di utilizzare personale attraverso il ricorso al lavoro interinale quindi si sperano una soluzione positiva a livello proprio pratico per questi lavoratori che hanno vinto un concorso e sono in graduatore nel giorno dedicato all'europa il consiglio regionale ha aperto la porta del media center dedicato a david sassoli a palazzo del pegaso tante le iniziative presentate durante la conferenza stampa dal presidente mazzeo con il vice presidente del consiglio regionale stefano scaramelli il presidente della commissione politica europea relazioni internazionali francesco gazzetti tra le iniziative sono stati raddoppiati i fondi portati a 20 mila euro per il premio miglior tesi di laurea david sassoli e aumentato il numero di vincitori da 3 a 5 ogni anno la festa dell'europa cresce per far capire alle cittadine e i cittadini quanto sia importante investire sull'europa e noi lo abbiamo voluto fare ricordando un grande uomo un grande presidente del parlamento europeo david sassoli con una legge ad hoc istituendo il sostegno alle migliori tesi di laurea che parlano di europa lo facciamo con la presenza di nana malaschia è stata una attivista che a tiblisi l'otto di marzo ha sventolato con coraggio la bandiera dell'europa quella bandiera è segno di equità di giustizia di riscatto sociale di più diritti e lo ha voluto fare con forza anche mentre gli idranti della polizia tentavano di allontanarla e infine i nostri monumenti che saranno illuminati del colore della bandiera europea l'azzurro proprio nella giornata odierna nella serata odierna e che vogliono mandare un messaggio un messaggio di speranza perché l'europa è prima di tutto speranza noi in questi anni abbiamo cercato di riempire di contenuti la commissione europa e nel rapporto virtuoso che è nato di condivisione nel confronto tra posizioni politiche ovviamente c'è stata la possibilità di mettere in campo una serie di iniziative quelle che abbiamo presentato oggi servono a contrappuntare questo sforzo quindi la nuova edizione del bando per le tesi dedicate a sassoli poi il coinvolgimento dei comuni per quanto riguarda l'illuminazione dei monumenti e poi la giornata del 16 con questo incontro con la signora nana malaschia che servirà a mettere in evidenza anche diciamo una volontà di rapporto con le questioni e con i temi che sono anche al di fuori dell'europa perché ci sono tanti paesi che osservano l'europa caricando anche di aspettative e di speranze magari un rapporto con essa per noi è una giornata di festa che vogliamo condividere con le nostre amministrazioni comunali della regione toscana illuminare i nostri municipi i nostri monumenti di azzurro è un segnale di libertà un segnale di festa un messaggio di pace che nasce dalla toscana che sempre più si consolida quale regione d'europa sentirsi europei per ciascuno di noi è un sentimento che ci unifica che ci rafforza che chiede un grande segnale di pace a quella che è un conflitto ormai che da troppo tempo rischia di passare inosservato troppe persone stanno muovendo in queste ore in questi giorni nel silenzio più assoluto e noi vogliamo fare un grido di richiesta di pace che parte dalla toscana perché in europa non ci possa essere più un conflitto perché si possa convivere perché il popolo ucraino possa sentirsi membro e parte integrante della nostra grande comunità libera diciamo dall'oppressore russo che in questo momento sta continuando a invadere il proprio territorio e quindi Grazie a tutti.